Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione, per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al corso di soli 2 dollari 10 prototipi, con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità che attendere. In questo periodo potrete ricevere PCB di ogni colore a 2 dollari ed uno sconto di 20 dollari sulle spese di spedizione del primo ordine. Ciao a tutti, ricevo da Stefano della provincia di Alessandria questo pacco con su scritto VCR DVD player, quindi un oggetto vintage che andremo ad analizzare perché ci dice che è guasto e non si accende più. All'interno della scatola troviamo il nostro oggetto che è un Samsung DVD V5600 che è un combo DVD player e VHS. Stefano ci ha fatto anche la cortesia di farci trovare l'elenco delle parti e anche qualche schema elettrico. Inoltre, in bustina, i componenti che lui ha già rimosso, che si tratta di un operazionale e un fotocopiatore e anche un nuovo PWM controller che però non ha ancora montato perché dice che c'è qualcosa ancora che non va bene. Come prima prova inseriamo la spina nella nostra presa 220 e andiamo a dare tensione e vediamo se salta per aria qualcosa. Diamo tensione. No, nessun sintomo visibile da parte di questo oggetto, quindi abbiamo dato tensione di rete ma l'oggetto rimane completamente spento. Per aprire l'oggetto sarà sufficiente con un cacciavite a croce rimuovere questi tre viti poste sulla parte posteriore. Il nostro combo si presenta così. In quest'area abbiamo la parte di gestione del VHS, quindi con tutta la meccanica necessaria per la gestione delle videocassette. Da questa parte il DVD e sotto notiamo questa mainboard che ospita in quest'area la parte di power supply. Quindi per la ricerca del guasto seguiremo il percorso che fa l'alimentazione cominciando dalla spina che arriva con la 220 in questa zona e andremo a vedere in questa zona dello switching che si occupa appunto di creare le tensioni interne necessarie all'oggetto dov'è che il segnale praticamente si interrompe. Riconosciamo la classica topologia a switching, cominciando dall'ingresso 220 abbiamo fusibile di protezione, condensatori di tipo X, quindi tra le due fase e neutro, quindi sono condensatori in sicurezza che garantiscono certi modi di guasto. Poi abbiamo il filtro di modo comune realizzato su queste bobine. Qua probabilmente sono i condensatori in classe Y, cioè quelli verso la terra, quindi fra linee e terra, fase e terra. Tutti questi condensatori e magnetici servono per evitare che vengano condotti in rete dei disturbi generati appunto dallo switching. A seguire riconosciamo i quattro diodi per il raddrizzamento della tensione di rete, il grosso elettrolitico che fa da botte e prepara la tensione continua, pronta per essere switchata da un semiconduttore di potenza. Per lo switching, qua vediamo che c'è lo zoccolo che probabilmente ospita il PWM controller, il nostro magnetico di switching in ferrite che prepara le tensioni sui suoi avvolgimenti alla parte di secondario. Sul secondario notiamo diodo di raddrizzamento, capacità di livellamento per generare le tensioni di servizio della nostra scheda. A giudicare dalle dimensioni dei diodi di raddrizzamento, dei semiconduttori di potenza, del magnetico, eccetera, direi che questo è uno schema di tipo flyback, per cui dalla alternata abbiamo la raddrizzata DC, la quale viene poi tramite questo magnetico a flyback riportato sulle tensioni di secondario. La separazione tra primario e secondario, demarcata da questa linea, sembra essere con delle distanze accettabili. Qui riconosciamo il classico optoisolatore di feedback che permette appunto di retroazionare il controllo per fare in modo che le tensioni siano esattamente del valore voluto, indipendentemente dalle funzioni di carico che ci sono a valle. Sul secondario, questo potrebbe essere un voltage reference utilizzato appunto per dare il segnale di controllo del feedback, poi notiamo da questa parte condensatori e passivi che potrebbero essere degli snubber, cioè dei circuiti che vanno a tosare i picchi introdotti da questo trasformatore di flyback. Ricordiamo che il principio di funzionamento del flyback prevede che il magnetico funzioni da serbatoio di energia, per cui quando il MOSFET conduce, viene caricato sotto forma di campo magnetico il trasformatore, quando il MOSFET si spegne questa energia viene rilasciata e raddrizzata dal diodo. Questo travaso di energia deve essere effettuato con delle tempistiche opportune per evitare che non si saturi questo trasformatore e che l'energia venga convogliata dal primario al secondario sempre nei valori previsti a progetto. Se siete interessati al funzionamento del flyback potete guardare i miei video 400 come episodio 1 e seguenti, dove facciamo un'analisi teorica e anche misure pratiche su un flyback di esercizio. Per poter proseguire ora è necessità di accedere al circuito stampato, per cui andrò a rimuovere le viti di fissaggio alla base, questa, ce ne sono almeno 5 o 6 sparse su tutta la scheda. Dopo aver rimosso il connettore flat per l'unità VHS in questo punto e per l'unità DVD in questi due punti, ho rimosso le due unità e ho accesso alla scheda. Queste due unità per il fissaggio utilizzano circa 4 o 5 viti ognuna. Ora possiamo vedere l'interfaccia utente che tramite pulsanti posti sul frontale e queste leve va a schiacciare i pulsantini posti sul PCB. Per il montaggio meccanico preciso delle unità sullo schema sono previste queste slitte di plastica che servono ad allineare l'unità e a fissarle in maniera corretta. Facendo leva con estrema delicatezza su tutti gli agganci di plastica e sfilando i connettori a frontale, ecco qua le due schede liberate dal loro involucro. Prima verifica semplice, controllo di integrità del fusibile, fusibile buono. giriamo la scheda, abbiamo accesso al lato saldature dove vediamo che ci sono diversi chip per il controllo di tutte le unità di questo combo. In particolare nell'interfaccia con la parte digitale vediamo che abbiamo un doppio montaggio per cui abbiamo dei componenti anche sul lato saldature. Per quello che ci interessa sullo switching invece il lato saldature è pulito. notiamo qua una filatura, quindi probabilmente un intervento che è già stato fatto a questo livello. Andiamo a verificare se sul nostro condensatore abbiamo la raddrizzata della 230V, 317V, ok. Quindi il condensatore si carica correttamente, quindi fino a quel livello tutto ok. Osservando come è organizzata la scheda, notiamo che le serigrafie che sono state scelte sono parlanti. Nel senso che ogni sigla inizia con una lettera ad indicare la tipologia di componente. ad esempio il diodo zener utilizza una Z, le resistenze una R, il nostro integrato pvm controller è la sigla IC. Se sfogliamo la documentazione scaricata da manualslib.com otteniamo tutta la distinta componenti ed in particolare per il nostro componente andiamo a vedere di che integrato si tratta. Nella distinta componenti alla sigla IC1SS2 troviamo questo pvm controller che è un IC2B265, questo è un integrato dell'Infinion della famiglia Coolset, andiamo a vedere il tipico diagramma applicativo dell'integrato, eccolo qui, riconosciamo la tipologia flyback, infatti questo integrato integra al suo interno il mosfet per commutare poi questo trasformatore di flyback. per cui abbiamo la raddrizzata, il condensatore, la resistenza di startup per far partire il nostro integrato, dopodiché il mosfet comincia a switchare l'avvolgimento di primario, qua vediamo anche la rete di snubber per limitare i picchi, una volta che il nostro flyback è partito da questo alimentatore tramite un diodo e capacità si va ad alimentare in maniera permanente il nostro controller pvm, al secondario riconosciamo diodo condensatore ed eventuali filtri per pulire l'uscita, notiamo poi che sull'uscita è presente anche il feedback tipicamente realizzato con l'opto isolatore che riporta indietro il segnale al pin fb, tramite il valore di questo potenziale il nostro controller decide il valore di duty cycle a cui switcha questo transistor. Quindi adesso prima di sostituire l'integrato andiamo a vedere se le condizioni al contorno sono presenti, in particolare andremo a leggere il valore di questo potenziale per vedere se allo startup effettivamente abbiamo la tensione giusta per far partire il nostro controller. Oggi abbiamo anche la fortuna di avere a disposizione lo schema della nostra scheda, quindi l'SMPS del nostro VCR è scheda main, riconosciamo l'ingresso della 220, condensatore di sicurezza, filtro, ponte raddrizzatore, condensatore di livellamento, ecco il nostro trasformatore di flyback. Questo è il nostro pvm controller e vediamo le tensioni che vengono a essere presenti al secondario, abbiamo una 3.3V, una 5.8V e altre tensioni di servizio. Il riferimento di regolazione è preso su questa 5.8V, tramite questo partitore abbiamo il nostro voltage reference che è un integrato 413V che è uno shunt regulator da 2,5V per cui andrà a polarizzare questo fotocoppiatore a seconda del valore di tensione presente su questo nodo. Questo segnale di feedback viene poi riportato al controller che andrà a regolare il duty cycle del suo mosfet interno. Per lo startup vediamo che dal nodo ad alta tensione ci sono tre resistenze di elevato valore e poi abbiamo questo nodo che serve per innescare l'accensione di questo pvm controller. Quindi una prima misura che possiamo fare è leggere la tensione fra il pin 6 e il pin 3 che praticamente è a ground, è a ground tramite questa resistenza di shunt. Prima di procedere analizzo questa filatura. In pratica si trova fra il fotocoppiatore e questo punto e secondo me è stata fatta perché osservando questa pad non c'è più quindi si è rotta la pista e semplicemente è stata fatta questa pista per ricollegare elettricamente i due punti. Infatti il fotocoppiatore di feedback è uno dei componenti che è stato sostituito in precedenza. Innanzitutto andiamo a verificare se ci sono le condizioni di innesco del nostro integrato. Quindi senza integrato piazzato andiamo a vedere se dal positivo della capacità tramite queste tre resistenze del valore di 270 kg si viene a localizzare su questo nodo la tensione data da questo zener di modo che così all'accensione l'integrato possa partire. Diamo tensione il riferimento del mio multimetro lo metto sul pin 8 del mio integrato che è il ground andiamo a vedere il potenziale sulla prima resistenza. 316 questa è la raddrizzata. A valle di questa resistenza 206 per cui sta scorrendo corrente. Andiamo ancora a valle 104. Andiamo ancora a valle l'ultima resistenza 0. No qua non deve essere 0 perché ci deve essere la tensione per far partire l'integrato. Lo zener che crea la tensione è questo qui. Andiamo a vedere infatti se c'è continuità tra questa resistenza e il catodo. Infatti sono in corto. Andiamo a vedere in modalità giunzione se il nostro zener è buono. Quindi mi metto così. No cortocircuiti. Ecco perché a questo nodo io ho 0 perché lo zener in questo momento è in cortocircuito quindi non riesce a localizzare ai suoi capi la tensione necessaria per far partire il nostro integrato. Quindi in pratica ci siamo messi con il meno sul ground. Siamo andati a vedere questi punti e c'è la tensione. Su questo punto qua però invece di esserci la tensione ai capi dello zener abbiamo 0 perché questo zener è in cortocircuito. Quindi andiamo a vedere chi è questo e lo andiamo a sostituire. Eccolo qua. Si tratta di questo ZDI1SS2 che è un diodo zener. È un MTZJ20B e in pratica è uno zener da 18.63V. Ecco il nostro zener rimosso. A maggior riprova lo verifico anche fuori dal circuito. Si questo è in corto. Ora devo sostituire questo MZJ20B e vado a verificare le caratteristiche dello zener. Vedo che la tensione di zener è compresa fra 18.63 e 19.5 con una corrente di zener di 5mA. Non ho in casa uno zener da 18.3 e quindi metto in serie uno da 13.3 con uno da 5V entrambi con una corrente di zener paragonabile a circa 5mA. Realizzo il mio mostriciattolo mettendo in serie i due zener stando attento che il catodo di uno si attacchi all'anodo dell'altro. Ecco montata la serie dei due diodi in luogo del diodo che era in corto. Andiamo a dare tensione. Misuriamo tra il pin 8 e l'ultima resistenza dello soft start 17.62 quindi zenerizza un po' meno. La tensione è un pelo più bassa. Invece di 18.6 abbiamo 17.6 ma potrebbe essere sufficiente per far partire il soft start. Prima di sostituire il PWM controller verifichiamo che le condizioni al contorno siano buone. In particolare che le giunzioni di questi diodi, e ce ne sono parecchi, diodi zenere e diodi normali, siano tutte integre. Quindi sul primario andremo a guardare il diodo sullo snabber, il diodo di protezione sull'opto isolatore e al secondario i diodi di raddrizzamento delle varie tensioni, per essere sicuri che non ci siano poi magari dei carichi pesanti che possono aver portato al guasto di questo nostro PWM controller. Il multimetro in modalità giunzione è tutto disalimentato, vediamo i vari diodi. Questa è la protezione dell'opto, ok. Poi vediamo lo snabber, questo diodo un po' più grosso, va bene. Quest'altro sempre della rete di snabber. Vediamo ora il secondario, cominciamo da questi diodi sul lato destro. Sono tutti i raddrizzamenti delle tensioni di secondario. Questo qua è un pochino più grosso, dovrebbe essere della tensione per il motore del VHS, buono. Ok, sembra che in questa zona tutte le giunzioni siano buone. A questo punto siamo pronti per sostituire il PWM controller l'ICE2B265. Ho sostituito l'integrato, andiamo a misurare la tensione che c'è fra i pin 7 e 8, 17.6. Quindi la VCC c'è, lui è alimentato. Andiamo a vedere fra drain e source del MOSFET, quindi fra 8 e 5 ad esempio, 315 volt. Quindi il MOSFET sostiene la tensione di continua del condensatore, ma non sta switchando. Serviamo la tensione fra drain e source tramite l'oscilloscopio, per cui mettiamo due sondini. Ricordatevi sempre di isolare la vostra apparecchiatura dalla terra, perché altrimenti andando a connettere la massa dell'oscilloscopio sul ground, fareste un bel botto, perché ricordiamoci che il ground è il negativo di questo condensatore, che è collegato alla rete elettrica. E quindi sarebbe come dire, mettere a terra o linea o fase. Se siete interessati a come collegare l'oscilloscopio a terra, potete guardare il mio video 203. Diamo tensione, transitorio di salita, ecco la tensione ai capi del MOSFET. Effettivamente è una bella continua di 300 volt, stabile. Se il controller è alimentato, ma non comanda il MOSFET, potrebbe essere colpa del segnale di feedback, che praticamente lo tiene spento. Per verificarlo mi metto ai capi del fototransistor con l'oscilloscopio e vediamo come è fatto il segnale di feedback che rientra nel PWM controller. Ecco il segnale di feedback. Vediamo che ci sono degli impulsi, in realtà, distanziati di quasi mezzo secondo. Quindi quando il segnale è basso, significa che la tensione in uscita della switching è presente. Poi è come se ci fosse un piccolo spegnimento e di nuovo. Ora vado a leggere la tensione sulla corrente di sense, quindi l'ingresso 3 e metto le sonde fra il piedino 8 e il piedino 3. Rimuovo per un attimo il PWM controller e vado a vedere la tensione di alimentazione che gli arriva in assenza di controller. Come atteso, questa è una tensione continua del valore di circa 17 volt. Dovrebbe essere in realtà un po' più alta, 18,3 L di odozener, ma la ritengo comunque accettabile. Rinserisco il controller e andiamo a vedere la sua tensione di alimentazione. Vedete che questa tensione di alimentazione presenta questo andamento di tipo onda triangolare a una base tempi 200 millisecondi, quindi sembrerebbe che ci sia un assorbimento eccessivo del PWM controller con questa cadenza. Mi posiziono sul drain del nostro PWM controller. Ecco che vediamo che ci sono delle accensioni del nostro PWM controller, guarda caso, proprio a ritmo di 200 millisecondi. Quindi quella rampa sull'alimentazione era legata all'accensione. Se vado ad aprire la base tempi e metto il trigger in normal in modo che posso catturare le mie accensioni col fronte negativo, vedete qui praticamente il MOSFET si accende. Con una frequenza di switching, adesso la fermiamo un attimo, ecco col single, praticamente abbiamo 10 microsecondi e vedete queste accensioni del MOSFET. Quindi in realtà lo switching sta funzionando. Per verificare se lo switching sta funzionando vado a prelevare la tensione direttamente sui condensatori elettrolitici del secondario. Ad esempio posiziono i puntali in questo punto. Attenzione, 20 volt. Quindi in realtà lo switching sta funzionando. Questa tensione è un po' alta potrebbe essere quella per pilotare i motori del VHS. Vediamo su questo condensatore di un altro secondario. 4 volte 8, 5 volt. Questa è la 5 volt. Quindi lo switching in realtà sta andando dopo questa modifica. Qua abbiamo una negativa, meno 4,7, quindi la meno 5 volt. Niente, qua lo switching sta funzionando. L'alimentazione del controller non è stabile, per cui questo condensatore che è in parallelo allo Zener probabilmente è in perdita. Andiamo a toglierlo. Il condensatore in questione è un 33 micro, 35 volt. Andiamo ad analizzarlo con questo strumento della PIC. Capacità 30.82 micro, quindi un pelo più bassa di 33, ma vabbè. Più che altro ESR 1 ohm e 56. Questa è un po' troppo altina, nel senso che ha una resistenza di perdita troppo elevata. Considerato che avevo sostituito lo Zener da 18 volt e Zenerizza un po' troppo basso, decido di aumentare leggermente questa capacità, quindi scelgo un condensatore da 47 micro nuovo. L'ESR in questo caso è 0.5. Accettabile. Ora possiamo andare a guardare il segnale di feedback. Vediamo che una delle uscite, prelevata dal secondario da 5.8 volt, è portata tramite questo partitore di tensione al fotodiodo di questo fotocoppiatore. Qui sotto ho un voltage reference molto preciso, che è un 413, che mi va a settare esattamente qual è il punto di tensione per cui io devo dare il segnale di feedback al mio controller. In pratica, se la tensione al secondario è quella per cui è stato regolato il mio circuito, mi aspetto che questo fotodiodo entra in conduzione e quindi questa tensione va bassa. Viceversa, appena la tensione ad esempio cala, questo fotodiodo esce dalla conduzione, questo fototransistor si apre e io vedrei questo nodo andare alla tensione di questo zener, che dovrebbe essere circa di 4 volte 3. Questo è il segnale prelevato sul fototransistor del mio optoisolatore. Come vedete abbiamo il livello basso, quindi fototransistor acceso, tensione ok, che poi ciclicamente si spegne, quindi praticamente la tensione di secondario cala un pochino, a questo punto vengono date due botte di conduzione del mio MOSFET e la tensione rimane di nuovo al suo livello. La ciclicità è la stessa che avevamo visto prima nelle forme d'onda sull'alimentazione del mio controller. Ora osserviamo com'è la tensione di uscita da 5.8 volt. Guardate cosa troviamo, direi che non ci siamo, perché qua abbiamo una tensione che raggiunge magari il suo massimo valore ma poi si scarica subito, come a dire che su questa alimentazione ci sia un problema a valle, quindi in qualcosa che assorbe troppa corrente e forse anche il motivo per cui è rassaltato il controller del PWM. Per vedere se c'è un sovraccarico su qualche alimentazione posso sezionarle una alla volta, ad esempio la 3 volte 3 posso alzare questa induttanza in serie di modo che così il secondario non sarà caricato con tutto quello che c'è a valle. Anche con l'alimentazione sezionata vediamo che il problema persiste sulla 5.8 volt che invece di essere una bella alimentazione livellata presenta questo andamento impulsivo. Una parte molto importante della regolazione è questo reference di tensione che deve fornire ai suoi capi una tensione tale per cui si innesca il controllo. Andiamo a vedere com'è la tensione su questo reference. Questo è l'andamento e segue la tensione a 5.8 volt, quindi c'è un picco in cui si va alto, però invece di rimanere stabile vediamo che decade e segue questo andamento. In questo momento va anche negativa in questi istanti qui. Metto in relazione il segnale di feedback in giallo con il segnale del drain, quindi di quando funziona il PWM controller. Quindi vediamo che appena il feedback va alto si accende giustamente il nostro mosfet, ma poi si ferma e rimane il feedback basso nonostante la tensione in realtà non sia buona, quindi c'è qualcosa sul circuito di feedback che non va bene. Ho tolto la resistenza di sense che mi risulta interrotta e difatti vediamo che il comportamento non è cambiato più di tanto, cioè ho sempre queste accensioni del mosfet e quindi comunque il circuito di feedback non sta funzionando, né quello di corrente né quello di tensione. Per vedere il comportamento dello switching carico l'uscita a 5.8 volt con una resistenza da 15 ohm, in modo che così vediamo a carico se cambia la forma d'onda. Vediamo che l'uscita prova a salire alta e poi subito dopo l'integrato mette in protezione per cui si scarica. Col carico collegato vediamo che il transitorio di discesa è molto più veloce rispetto al caso di vuoto. Sostituisco anche il riferimento di tensione il 4.3.1 che è in package TAO92. Per quanto riguarda la resistenza di sense dovrebbe essere una 0.33 ohm 2 watt, quindi utilizzo tre resistenze da 0.87 in parallelo e fissate qui. Anche sostituendo il reference abbiamo sempre che la tensione di uscita al secondario prova ad alzarsi poi l'integrato va in protezione. Lo switching va in protezione perché eleva la tensione poi a un certo momento interrompe e secondo me interviene la protezione in corrente. Quindi a valle c'è qualcuno che sta assorbendo troppa corrente. Per dimostrare questa teoria vado ad aprire queste bobine sulla tensione di 5.8 di modo che faccio lavorare lo switching con tutte le tensioni tranne queste due. Come voleva si dimostrare, in questa configurazione lo switching è riuscito a fornire la sua tensione di nominale, sarebbe 5.8 volt. Ovviamente adesso avendo selezionato il carico a valle la tensione è andata al suo massimo. Quindi il guasto è da ricercarsi anche dopo e potrebbe essere questa effettivamente la causa che ha fatto saltare lo switching. Però diciamo che l'alimentatore adesso è ripristinato. Queste due linee a 5.8 volt vanno una al VCR e l'altra al DVD. Solo una delle due causa il problema, quindi siamo aiutati nella ricerca del guasto a valle. Ecco le bobine in questione che ho utilizzato per sezionare la linea. Qua ho semplicemente assato un piedino, invece nell'altro caso l'ho proprio tolta. Quindi siamo riusciti a ripristinare la zona di questo switching. Abbiamo cambiato il PWM controller, il fotocopiatore, il voltage reference, la resistenza di sense e anche condensatore e zener. Quindi un bel po' di componenti, però adesso almeno l'unità operativa. Va in protezione perché c'è un guasto a valle. Essendo la scheda abbastanza grande, il video finisce qua. Come sempre se vi è stato utile o vi è piaciuto, un bel pollice in su. Io vi saluto. Ciao e alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.